dei territori dal processo di partecipazione. L'Acquedotto Pugliese ha illustrato oggi i risultati di un sondaggio sulla soddisfazione degli utenti in merito al servizio ricevuto. I particolari da Vito Marinelli. Le rilevazioni risalgono al periodo giugno-luglio 2014, ma a distanza di 5 anni dall'ultimo sondaggio, i risultati sono decisamente positivi. Per gli utenti dell'Acquedotto Pugliese, l'indice di soddisfazione è salito all'84,7%, due punti in più rispetto al 2009. Punti di forza del sentimento generale, la cortesia, la professionalità e la competenza del personale addetto, mentre qualche defiance si registra invece nella comunicazione con l'azienda. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dall'amministratore unico Nicola Costantino e dal direttore generale Nicola Di Donna, alla presenza dell'assessore regionale ai lavori pubblici Gianni Giannini, in qualità di rappresentante dell'azionista di maggioranza. Tutto a pochi giorni dall'avvio degli aumenti delle tariffe idriche salite dal primo gennaio scorso del 6%, cifra contenuta rispetto a una previsione del 25%, dicono l'Acquedotto, grazie al contributo della regione Puglia attraverso l'utilizzo di fondi comunitari. Altro dato positivo, nella nostra regione si spendono per investimenti destinati al ammodernamento delle impianti e delle infrastrutture 36 euro per abitante, più della media italiana ferma a 30 euro. Purtroppo le tariffe a livello nazionale sono destinate a salire ulteriormente, progressivamente negli anni. In Puglia meno che nel resto d'Italia, perché in Puglia abbiamo fatto di più negli ultimi anni del resto d'Italia. Noi abbiamo un sistema di copertura del servizio idrico integrato superiore alla media nazionale. Fimici isle e wii